Notizia di prima giornata clamorosa. Dopo tre pareggi e una sconfitta sulle quattro partite giocati stagione, la Roma decide di esonerare Daniele De Rossi, un tecnico che ha fatto tanto bene nella parte finale della scorsa stagione, una volta subentrato a Mourinho, e che adesso si trova senza squadra. Un contratto rinnovato nel giugno 2024 fino al 2027, quindi un allenatore che si è legato per un trennare alla Roma, è qualcosa che non capisco. Io capisco le difficoltà. Devo dire che la cosa mi ha lasciato attonito, perché si parlava da giorni di questo ribaltone, ma i Friedkin sembravano resti a farlo, sembravano seguire la linea dell'allenatore. Però notizia veramente di qualche minuto fa, perché io sto cominciando a registrare adesso alle 9.10, ma la notizia è uscita veramente 3, 4, 5 minuti fa, che sul sito appunto a Roma i giallorossi ufficializzano l'esonero di Daniele De Rossi. Un tecnico che è erentato nei cuori romanisti la scorsa stagione, perché comunque aveva saputo affrontare il post Mourinho, aveva saputo portare, nonostante fosse un tecnico un po' inesperto, un'area nuova. Questa stagione si è iniziata in modo un po' negativo, ripeto, tre pareggi e una sconfitta in quattro partite. Io stesso avevo detto in qualche video fa, che De Rossi non avrebbe avuto scuse, perché comunque la Roma ha speso tanto sul mercato. Ma porco mondo, ma veramente al 18 settembre, dopo quattro giorni di campionato, che io va bene che ho detto che rischiava, che nel senso che avrebbe avuto più responsabilità, perché si ebbe stato chiamato a far rendere una squadra. Ma non nell'arco di un mese all'inizio del campionato, è follia, secondo me è pura follia, pura follia, programmazione zero, cioè tu mi caccio un allenatore dopo che tu mi hai fatto, se tu hai speso tanto vuol dire che tu hai anche rinnovato tanto. Con Dovbic, col Manu Coné, con Hermoso, con questi giocatori qui, tu hai rinnovato, hai perso Smalling, che comunque fino a poco tempo fa, fino a seconda scorsa, era un po' uno dei titolarissimi in difesa. Ha aggiunto un Salemi Kerr, che adesso purtroppo starà fuori per tanto tempo. Ha aggiunto un Hummels, cioè tu così. Allora mi son chiesto il perché. Anzi mi chiedo ora il perché, perché ragazzi io non ho avuto ancora tempo di metabolizzare. Io i ragionamenti che sto facendo in questo video, li sto facendo indirettissima con voi, li condivido con voi, perché ripeto, sto registrando e pochi minuti fa c'è stato l'ufficio dell'esonero. Allora, due cose mi stanno balenando in testa. In primis che potevo aver rotto con qualcuno lo spogliatoio. Magari con lo stesso Lorenzo Pellegrini, che già si era messo un pochino di traverso come un rigno. Pellegrini ha, non voglio puntare il dito, io dico semplicemente le mie opinioni, un Pellegrini che ha visto la sua titolarità completamente persa. Perché comunque De Rossi ha delle idee diverse. Con i due quartisti e la punta. O magari con le mezziali, però magari preferisce un Manucone piuttosto che un Pellegrini. Ma io l'ho sempre detto che un Pellegrini è un mezzo giocatore. E sono d'accordo con chi dice che hanno voluto per forza forzare la mano con Pellegrini e il Romano di Roma, che deve essere il post De Rossi e il postotti. Non funziona così. Non funziona così perché deve avere le palle per un certo ruolo. Quindi magari parte dello spogliatoio si può, può essersi un attimino, non dico, girato contro l'allenatore. Ma magari non si spiega più una bella aria. Seconda cosa, mi sembra strano che i Friedkin abbiano preso questa decisione dopo la sosta dei nazionali, dopo l'ultimo pareggio contro il Genoa, che anche lì hanno pareggiato al 95esimo, voglio dire, dopo che sei stato espulso, va bene, al 95esimo l'ultimo respiro, ma quante volte ti capita che prendi gol al 95esimo? In una partita dove comunque Gollini ha salvato le chiappe al Genova. Al Genova, al Genova. Ha salvato le chiappe perché mi pare in tre occasioni ha fatto i paratoni. Quindi, sì, è vero, si poteva segnare di più. Ragazzi, su Dovbic ha parato l'impossibile, Gollini. Quindi è vero sì che si poteva segnare di più, ma ragazzi, a volte se ti si mette dietro la sfiga, ti si mette dietro la sfiga. Ok? Non è che ha sbagliato De Rossi i gol di Dovbic, o ha parato involontariamente De Rossi i tiri di Dovbic se si vuole impersonificare De Rossi con Gollini. Non sono decisioni di allenatore. Capita. 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 Allegri? Nell'annata, ma adesso non mi ricordo quale, con la Juventus che poi vinse lo scudetto. Partì malissimo. Mi pare quando perse contro il Chievo Verona. fece pochissimi punti nelle prime partite. Poi fece il filotto e andò a vincere lo scudetto. Io a volte penso che queste proprietà straniere non gliene fotta niente il discorso tecnico. Perché non ci capiscono niente. Non ci capiscono niente. Ma niente. 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 Perché comunque tu dopo che mandivi a Morigno, prendi De Rossi, e dopo quattro giornate della stagione, della prima vera stagione De Rossi a Roma, dall'inizio lo cacci via, vuol dire che tu, come programmazione, hai zero. Non capisci quello che stai facendo. È una follia pura. Una follia pura. Abbiamo visto ieri la sconfitta netta del Milan contro il Liverpool e anche il Milan. Ok. È più alto della Roma in classifica. Però non gode di una grandissima fiducia. Fonseca. Non mi sono schierato conto di lui. Posso schierarmi conto De Rossi. Si parla di Massimiliano Allegri. Ok. Che sicuramente a livello, a parte l'ultima stagione a Juventus, è un risultatista. È un risultatista. Nel senso che comunque non gli affrega niente il gioco, mira a fare risultato. Fondamentalmente, magari con un Allegri, la partita del contro il Genoa, non l'avresti persa. Cioè non l'avresti pareggiata all'ultimo minuto. Magari quel gol lo evitavi. Ma con i secondi, ma la storia non si fa. E teniamo conto anche di una cosa. Che ha pareggiato 0-0 contro la Juventus. E non è la Juventus delle pippe. È una Juventus con motta. che si sta ricostruendo, ma con un'idea di gioco esistente e non come quella di Allegri. È vero, è fatto il passo falso contro l'Empoli. Verissimo, ma ragazzi, l'Empoli adesso, in questo momento della stagione, è rognosa per tutti. Abbiamo visto l'Inter che ha pareggiato veramente in modo fortunato contro il Monza. Se no, perdeva l'Inter. avrebbe perso e il Monza in classifica è più basso rispetto all'Empoli. Quindi cosa vogliamo dire? E l'Inter ha vinto lo scudetto. Mentre il Monza mentre Roma ovviamente no, mentre l'Empoli è più alto il Monza ma comunque l'Inter è più basso dell'Empoli ma comunque l'Inter ha vinto lo scudetto. Cosa vogliamo dire? E qui veramente è la follia. Qui veramente è la follia. Io non capisco questa decisione. Allegri, farà qualcosa di diverso. Allegri, come verrà presa questa decisione? Tu spendi tanto, rinnovi tanto, vuol dire che l'allenatore deve avere anche il suo tempo per amalgamare tutti quanti. Non scordiamoci che uno Zalersky che prima comunque giocava abbastanza, adesso è stato messo anche fuori rosa, è stato forse verrà integrato appunto per l'infortunità di Selemekar. È un attacco fondamentalmente a ricostruire. Per cui tu hai di nuovi hai Dovbic, hai Sule, hai comunque Vabbè Di Bala, stai rivitalizzando uno show muro Dov. Ragazzi, De Rossi, porco mondo, ti sta valorizzando un Pisilli. Ha messo Pisilli titolare ma perché lui ha una cavolo di idea. Io non vorrei che arrivasse l'Allegri di turno per dirne uno. Pisilli ritorna a giocare e ritorna a non giocare. È un 2004, cosa lo mette a fare da fuori quota in primavera? Ha mercato chiuso che manco lo puoi dare via in prestito. Cos'è? Pisilli un altro che gioca più di Pellegrini? Non lo so ragazzi, lungimiranza zero. I Fridkin hanno fatto una boiata devastante lungimiranza zero. veramente zero. Hanno distrutto un progetto i Fridkin. Distrutto un progetto iniziato in questa stagione per l'amor di Dio non con risultati fantasmagorici ma hanno distrutto un progetto deliberatamente. Deliberatamente. Fatemi sapere voi tifosi da Roma o no cosa ne pensate? Io dico sempre una cosa forza Daniele De Rossi lo sosterrò sempre e comunque dovesse andare all'est o dovesse andare in B dovesse rimanere in A forza De Rossi sempre. di B di B di B di B di B di B